il karate secondo lei che cosa in più o di diverso dagli altri sport? il karate è molto diverso dall'altro sport perché tutto il karate è stato fatto per tecnica di autodifesa questo punto è chiaramente diverso dall'altro sport il karate ognuno ha la sua ragione di vita comunque il karate è la cosa più importante che sia una cosa che è serio, vero, sincero ogni cosa che fa nella pratica del karate anche nella vita la pratica del karate Grazie a tutti 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 Grazie a tutti